bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi come ieri è uscito un nuovo codice di what they have molto più maosugoso di quello di ieri perché gli regala un sacco di risorse gemme oro tanta tanta roba per tutti i ragazzi che hanno iniziato da poco a giocare a what them o anche per chi ancora non lo ha inserito quindi ragazzi la nostra famina vi spiega subito come fare per andare a inserire il codice dove devono andare dovete cliccare sul vostro livello di numero esatto il vostro livello in alto a sinistra mi raccomando ci spiega io parli sempre tempo dovete cliccare sul tasticlito chiudi la bocca su codice promozionale molto bene il tasto verde cliccare con la frecce su codice che vi apparirà la tastiera dove dovete inserire il promo code esatto prima di inserire il promo code però ragazzi vi ricordiamo sempre di lasciare un bel like che non vi costa niente a questo video e di iscrivervi al canale youtube andiamo subito a inserire il codice nuovo forza forza che abbiamo fretta forza forza che il tempo è denaro malcaide ragazzi malcaide devo fare in via codice 500 di gold e porca miseria ragazzi un sacco di risorse per voi per poter affrontare al meglio o per eventualmente acquistare qualche baule se per caso vi mancassero delle gemme beh ragazzi direi che anche per oggi è davvero tutto spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo prestissimo ciao ciao